L'arte contemporanea come strumento per spiegare la realtà, ma anche come mezzo di comunicazione e, perché no, di denuncia. La Galleria Forma 4 ospita fino al 27 gennaio una mostra di pop art, Italia Pop, dalle origini ai giorni nostri. Un'esposizione d'eccezione che comprende tutte le opere dei maggiori esponenti italiani del movimento pop del mondo, Mimmo Rotelle, Enrico Bai, ma anche il pugliese Guido Corazziari, architetto, pittore e artista multimediale, con all'attivo centinaia di mostre in tutta Europa e negli Stati Uniti. Questi artisti rappresentano uno sguardo complessivo e eterogeneo della produzione italiana di arte pop, chiaramente sia esplicita che semplicemente per riferimenti. Partiamo dalle opere di Enrico Bai, che è operato alla fine degli anni 50, una svolta del suo stile usuale per approdare appunto a riferimenti anche espliciti all'arte pop che si andava sviluppando nel panorama anglosassone. Poi possiamo parlare anche per esempio di Gonespolo, oppure di artisti lo stesso degli anni 60-70, come Tano Festa o lo stesso Schifano. Tutto può essere motivo di ispirazione. Nella mia pittura c'entra veramente di tutto, icone religiose, soggetti fumettistici. Tutto viene rimescolato al fine di ottenere una composizione che stimoli in qualche modo il benessere e anche ovviamente il pensiero. Ad esempio nello specifico l'opera alle sue spalle cosa rappresenta? Attraverso questa composizione è una certa componente anche di ironia. Dal momento che ho ridisegnato e riciclato la bandiera americana con i colori italiani, eventualmente ho rimescolato queste figurine che comprendono la Barbie e Creamy, un immaginario infantile ma allo stesso tempo carico di una punta di erotismo. Voglio suggerire una visione dell'Italia piuttosto maliziosa e in qualche modo anche disinibita. Grazie.